vendendo questi dischi qua e ogni tanto dicevo al negoziante lo vuole anche un disco di pupo e quello dice ma chi è pupo sono io facevo e quello dice ah perché lei oltre che vendere gli incide dischi e dice sai ci provo guardi senza offesa no non lo voglio perché non li vuole nessuno richiede nessuno invece c'era un disco che lo chiedevano tutti un boom pazzesco e io guadagnai un sacco di soldini per mantenere la mia famiglia con quel disco lì e allora poi quando è arrivato il successo ho detto voglio fare un omaggio a questa canzone agli autori di questa canzone perché insomma se lo meritano perché per me è stata una canzone importante per me e per la mia famiglia che poi negli anni voi lo sapete purtroppo si è molto molto allargata e quindi devo lavorare tanto e allora sentite ora sono sicuro che quando sentite le prime note non vi dico il titolo niente ma anche voi un po' vi non dico vi emozionerete ma vi toccherà questa canzone sentite era questa canzone grazie